Musica Prima edizione del nostro telegiornale, ben trovati. Oggi è giovedì 22 agosto e apriamo il nostro Tg parlando del naufragio di Porticello. Ho recuperato questa mattina il corpo del magnate britannico Mike Lynch. Proseguono intanto le ricerche. I sommozzatori sono alla ricerca della figlia, diciottenne, dell'imprenditore Hanna. Il servizio è di Luca Licata. Dopo che ieri era stato individuato nell'area cabine durante le operazioni di ricerca, alle 8 di questa mattina i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno recuperato e portato a terra Il quinto corpo si tratta del magnate inglese Mike Lynch. Una volta giunto in porto all'interno di una body bag si è proceduto all'identificazione. A mancare all'appello adesso solamente la figlia diciottenne dell'imprenditore Hanna Lynch. La ragazza non è stata ancora individuata. Ieri pomeriggio sono stati recuperati i primi quattro corpi, rimasti intrappolati dal lunedì scorso all'interno del Bayesian. Il veliero di 56 metri adagiato a 49 metri di profondità sui fondali davanti Porticello, nel Palermitano. Nel corso dell'operazione estremamente delicata sono state riportate a terra le salme del banchiere Jonathan Blumer e della moglie Judith, dell'avvocato Chris Morvillo e della consorte Neda. Una volta giunti sulla banchina i corpi sono stati trasferiti in un capannone e successivamente trasportati in ambulanza al cimitero dei Rotoli di Palermo, dotato di celle frigorifere. Le autopsie che saranno disposte nei prossimi giorni dalla procura di Termini Merese verranno eseguite all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo. A Porticello intanto proseguono incessanti le ricerche, 27 in tutto, i sommozzatori impegnati a lavorare a 50 metri di profondità. Ciascun team, composto da due unità, si alterna senza soluzione di continuità. Gli ambienti da esplorare sono stretti a non aiutare inoltre. È la presenza di numerosi oggetti che ostacolano il passaggio. È sempre sull'argomento la procura di Termini Merese indaga per naufragio e anche omicidio colposo plurimo contro ignoti al vaglio degli inquirenti foto e video. I superstiti hanno scelto di affidarsi ad uno studio legale britannico ancora alicata. Perché il Baiese ne ha fondato? E' questa la domanda delle domande che al momento non ha una risposta. Attorno alle cause del naufragio per adesso girano tante ipotesi. Il veliero sarebbe stato colpito da una tempesta, una tromba d'aria arrivata all'improvviso e quanto emerge dalla testimonianza rilasciata dal neozelandese James Catfield, 53 anni, comandante dello yacht colato a picco. I pubblici ministeri di Termini Merese lo hanno interrogato. Stanno cercando di ricostruire le fasi drammatiche dell'inabissamento, acquisire dettagli tecnici utili. La procura di Termini al momento indaga per naufragio e omicidio colposo plurimo contro ignoti. C'è da dire però che diverse ipotesi sono al vaglio. Gli inquirenti stanno visionando video e fotografie scattate la notte della tempesta da alcuni abitanti di Porticello. Potrebbe esserci stata ad esempio una catena di errori che ha portato la nave ad affondare in pochi minuti, come un boccaporto del ponte superiore lasciato aperto, la deriva mobile in posizione alzata, l'errato posizionamento dell'imbarcazione oppure un ritardo nell'attivazione del sistema automatico che sigilla la nave in caso di pericolo. Queste al momento sono solamente ipotesi. I sommozzatori, durante le prime ispezioni del relitto, hanno trovato la deriva alzata nel fondale a 49 metri di profondità, dunque nella posizione di minor stabilità. Secondo gli esperti, con questo assetto sono sufficienti raffiche di vento a 100 km orari per rovesciare quel tipo di veliero. Un'altra pista riguarda invece un'errata valutazione della situazione meteomarina e quindi del rischio. La vicenda giudiziaria è solo all'inizio. I superstiti del naufragio intanto hanno scelto di farsi seguire da un'importante compagnia legale inglese. Al momento sembrerebbe infatti che non abbiano vagliato l'opzione di ricevere consulenze legali da parte di esperti e professionisti italiani. Un diciottenne è morto ieri sera in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada che da Comiso conduce a Mazzarrone, nel Ragusano. La vittima, a bordo di un calesse trainato da un cavallo, è stata investita da un'auto il cui conducente è rimasto lievemente ferito. Il servizio è di Filippo Romeo. Centrato da un'auto mentre a bordo del suo calessino, trenato da un cavallo, stava percorrendo la strada che da Acate conduce a Roccazzo, frazione di Caramonte e Gulfi, nel Ragusano. E' morto così Giuseppe Curva, 18 anni, rimasto vittima ieri sera di un incidente stradale all'altezza del Bibio Pozzi Cancellieri, strada per Pedalino e Mazzarrone. Finito sull'asfalto e immediatamente soccorso da un'ambulanza del 118, il giovane sarebbe giunto già senza vita all'ospedale di Vittoria. Ferito in maniera non grave il conducente dell'auto, una Ford Kuga, un 41enne, che è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Indagini per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto sono in corso sul posto per i dilievi carabinieri. L'auto e il calesse sono stati posti sotto sequestro. Giuseppe Curva faceva il pastore e assieme alla sua famiglia, originaria di Gela, si occupava di allevamento di animali da latte. Alla fine di ogni giornata di lavoro era solito salire a bordo del suo calesse per una passeggiata. Partito da Contrada a Baucina, dove abitava alla periferia di Acate, al confine con il comune di Vittoria, ieri stava percorrendo, così come aveva fatto tante altre volte, questa strada verso Pedalino. Qui l'impatto con l'auto e il decesso avvenuto prima dell'arrivo al nosocomio. Giuseppe era molto conosciuto in paese, descritto da tutti come un ragazzo semplice e buono. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio nella chiesa madre. E all'indomani della firma da parte del Ministro alla Protezione Civile Musumeci, quella dichiarazione che dichiara lo Stato di mobilitazione straordinaria, supporto di regione e comune, colpiti dalla pioggia di cenere vulcanica, parla il Sindaco della città di Catania, Enrico Trentino. Il Capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile provvederà a derogare alla Regione Siciliana le spese sostenute dai comuni per ristabilire le condizioni di normalità dalla caduta della cenere vulcanica e quanto, afferma il Ministro Nello Musumeci, che ieri ha firmato il decreto per disporre lo Stato di mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione per la recente caduta della cenere vulcanica sui versanti dell'Etna. Musumeci sottolinea pure che l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha confermato dal punto di vista tecnico che la ricaduta di materiale piroclastico nella Regione Etnea costituisce da tempo un fenomeno ordinario e questo esclude la dichiarazione dello Stato di emergenza nazionale. Musumeci incassa il plauso del Presidente della Regione Schifani, che ricorda come sia stata accolta la richiesta della Regione certi che adesso gli interventi saranno immediati nonché quello del Presidente dell'AS, Gaetano Galvagno che parla di una buona notizia per i tanti siciliani e dimostra ancora una volta l'importanza della collaborazione tra istituzioni. I sindaci in queste settimane più volte hanno chiesto degli interventi. Sentiamo Enrico Trantino, primo cittadino di Catania e della città metropolitana. Per quel che concerne ciò che è stato già speso si tratta di un provvedimento che era atteso e che è giunto nei momenti in cui i tempi l'hanno consentito perché non si istruisce nell'arco di poche ore ma c'è bisogno di più tempo. Noi come città metropolitana immediatamente abbiamo chiesto lo stato di calamità o comunque di emergenza adesso è stato disposto in adesione a quella richiesta. Poi c'è il problema, quello successivo, di come pensare alla gestione di questi eventi che non possono più essere definiti emergenziari. Sono eventi ciclici, sono eventi che pertanto impongono un contrasto di natura strutturale. Per questa ragione io a inizio agosto ho riunito tutti i sindaci dell'area Etnea e ho detto che secondo me la soluzione migliore è che venga centralizzata la decisione nel senso di prevedere l'acquisto di macchine perché sarebbe un notevolissimo risparmio di spesa. Qualche polemica è nata su una riunione di sindaci alla quale non sarebbe stato invitato Trantino? Io faccio riferimento alle riunioni da me convocate in cui quindi ero presente in cui ho manifestato questa intenzione progettuale che ripeto deve essere sottoposta a una verifica di percorribilità. Lo so meglio perché l'ho letto anche sul giornale che si sono incontrati alcuni sindaci non so se sia stata una cosa estemporanea decisa all'ultimo momento sulla base di quali elementi si è stabilito chi farà andare e chi no. Per lo smaltimento e utilizzo della sabbia Trantino guarda agli esempi che provengono dall'Oriente. Mi interesserebbe conoscere quel loro sistema per cui stiamo provando a prendere contatto con questa amministrazione di questa provincia giapponese proprio per capire come fanno loro perché io credo che si possa rispondere bene se impariamo da quelli che già hanno risposto bene. Ci spostiamo ad Agrigento dove il sindaco Francesco Miciche ha vietato la vendita di souvenir che inneggiano in qualche modo alla mafia. È un vero e proprio affronto che mortifica la nostra comunità ci rivela ai nostri microfoni. Proprio questa mattina il servizio. I souvenir che strizzano l'occhio alla Sicilia omertosa e mafiosa nel giro di pochissimo tempo sono stati ritirati dalle vettrine del centro. È accaduto ad Agrigento dove il sindaco Francesco Miciche ha emesso un'ordinanza che vieta la vendita di qualsiasi tipo di oggetto che inneggia o richiami in qualunque modo e in qualunque forma alla mafia e alla criminalità organizzata. Proprio questo tipo di souvenir turistici oggetti e rappresentazioni che in qualche modo esaltano Cosa Nostra e il suo stile. Il padrino, un mafiuso, coppola e lupare, le mogli con abiti di colore scuro. Tutte le raffigurazioni della coppia mafiosa con un fucile spalla, l'intera famiglia a famiglia mafiusa. Nulla di più mortificante per tutta la comunità che da anni è impegnata nella diffusione della cultura della legalità. Opportuno, doveroso, avendo avuto la segnalazione, emettere immediatamente l'ordinanza. L'ordinanza che abbiamo diramato anche da tutte le forze degli ordini. Trarricchire anche tutta l'attività di Agrigento Capitale 2025. Quindi penso che era, ripeto, era doveroso fare questa ordinanza. Penso che anche i miei colleghi sindaci prendendo l'esempio da quello che ho fatto io oggi possano tiramare anche loro queste ordinanze in modo da eliminare drasticamente questi episodi. Parole che fanno eco a quelle di Mario Incudine che già tempo fa, con questo video finito sui social, è diventato virale dal traghetto in viaggio sullo stretto di Messina denunciò la vendita di articoli simili. Una battaglia che si sono intestati in tanti. Ma questi oggetti restano sul mercato anche fuori dai confini della Sicilia. Sempre ad Agrigento già nel 2019 era stato l'allora direttore del Parco archeologico e paeseggistico della Valle dei Templi Giuseppe Parello a tentare di fermare la vendita di questi prodotti senza però ottenere riscontri concreti. E rimaniamo in qualche modo a parlare di turismo e di presenze. A Taormina hanno raggiunto e superato le ottime performance dello scorso anno. Un milione e 350 mila turisti affollano la perla dello Ionio da Pasqua al mese di ottobre. Crescono gli stranieri e pensate un terzo sono gli americani. Taormina affollata di turisti e visitatori trende in crescita e numeri alla mano dopo i due anni bui di pandemia le presenze crescono eguagliando i pernottamenti della scorsa stagione. Un milione e 350 mila turisti nel periodo che va da Pasqua a ottobre alberghi pieni ristoratori soddisfatti nella perla dello Ionio gongolano gli albergatori che registrano in tutto esaurito il presidente dell'associazione che riunisce gli operatori del settore Gerald Schüller sottolinea il buon andamento dei flussi di villeggianti con americani in testa e più in generale stranieri che in certi periodi dell'anno coprono il 90% delle presenze. L'anno scorso abbiamo battuto il record delle presenze che eravamo circa un milione e 350 mila quest'anno la stagione si dovrebbe assestare sugli stessi numeri quindi una riconferma del trend positivo del 2023. Cresce anche il numero delle presenze straniere? Sì quello continua a crescere è una tendenza che negli anni è passata dall'85 al 90% forse di quest'anno di clientela straniera rispetto a quella nazionale che è legata al periodo estivo e ai ponti che man mano durante l'anno si offrono. Taormina sempre più in località del lusso con le maggiori griff della moda che aprono attività commerciali rilanciando l'identità della cittadina turistica nel mondo ed è corsa tra i marchi più prestigiosi della moda nell'accaparrarsi le botteghe del centro. Il trend della clientela straniera legato a questo turismo alto spendente soprattutto americano che ha raggiunto quasi un terzo delle nostre presenze ormai sono di turisti americani e quindi ha portato sempre più la presenza di note griff straniere che in pratica quasi quasi si ritrovano in una competizione cioè non essere a Taormina significa quasi perdere d'immagine e quindi questo trend sta continuando. Bagno in sicurezza poi musicoterapia e anche tanta allegria su iniziativa dell'Unione Italiana cieche tipo vedenti di Catania diversi ragazzi pluriminorati sulla sabbia della playa per una estate indimenticabile Mario Grasso sono bambini e ragazzi pluriminorati che vengono presi in carico dagli operatori sociosanitari che per una intera giornata al mare si occuperanno di loro assistendoli e coinvolgendoli in diverse attività musicoterapia in acqua terapia occupazionale costimolazione sensoriale bagno a mare l'Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Catania con un'estate al mare ha centrato l'obiettivo consentire a tanti bambini e ragazzi di vivere un'estate in allegria in spensieratezza grazie ad un progetto fortemente inclusivo messo in atto con la collaborazione delle Lidole Palme anche le famiglie plaudono anzi sono partecipi di un'estate al mare con l'intero nucleo familiare che gode di qualche ora di svago mentre i loro figli sono nelle ottimi mani dei professionisti coinvolti dalla WICI al centro delle diverse attività di svago la cosa bella è che risulti una cosa semplice perché in fondo il divertimento il gioco la creatività deve essere una cosa semplice chiaramente alle spalle di questa semplicità c'è una grande organizzazione ed è quello che noi abbiamo voluto per i nostri ragazzi con pluriendicap e le loro famiglie cioè dedicare un momento due volte alla settimana insomma questi momenti ricreativi come tutte le persone fanno mediamente in questo periodo insieme alle loro famiglie che contemporaneamente possono avere anche dei momenti di relax e di libertà mattinata al mare poi il pranzo nel ristorante della struttura quindi di nuovo tutti in spiaggia la famiglia vive interamente il suo bel momento in uno spazio bello importante come la playa che non ci scordiamo è bandiera verde e quindi una spiaggia vocata proprio ad accogliere tutti quanti dunque i ragazzi sono al centro del progetto ma le famiglie non lo sono corollario noi Carghiber non viviamo solo di terapie spazi e quant'altro ma abbiamo bisogno proprio di questi momenti per rigenerarci anche perché i nostri ragazzi hanno diritto a questo e devo dire sia la struttura che è stata sempre all'avanguardia non da oggi ma veramente è stata testimone ma l'unione ha avuto sempre a cuore di fare soprattutto da quando c'è il presidente Rita Puglisi una delicatezza diciamo a formare questo tipo di progetto per i nostri bambini adesso lo sport in terra adanese la meta a Catania bagna il proprio esordio europeo schiacciando per 9 a 1 l'Europa FC Gilbil Terra scatenato il bomber Michele Podda autore di una tripletta alle 16 rossazzurri chiamati alla replica nella seconda giornata del giro nel servizio di Claudio Cutuli esordio trionfale per la meta a Catania nella rassegna internazionale della UEFA Champions League il debut europeo si è consumato in terra danese la meta si è resa protagonista di un'entusiasmante prestazione con i rossazzurri che hanno dominato l'Europa FC Gilbil Terra infliggendo un perentorio 9 a 1 nel girone del preliminary round la squadra etnea è scesa in campo con la determinazione di chi sa di essere destinato a grandi traguardi fin dal primo minuto la meta ha mostrato un'importante superiorità tecnica Nizio infatti è stato fulminante Michele Podda con un preciso tiro ha subito sbloccato il risultato il gol ha dato il via al monologo rossazzurro Luis Turmene e Carmelo Musumeci hanno poi contribuito a chiudere il primo tempo sul 4 a 0 rendendo evidente la differenza di valore in campo secondo tempo con Podda assoluto mattatore del match autore di una tripletta personale e che ha confermato il suo ruolo di trascinatore della squadra trasmettendo la giusta grinta ai compagni Coach Juarra ha poi saputo gestire alla perfezione le rotazioni del roster a disposizione permettendo anche ai nuovi innessi come Rio e Gabriel Pini di esprimersi al meglio con quest'ultimo alla prima marcatura in Champions nel finale spazio e gloria anche per il giovane etneo Luis Turmene suggellare una serata memorabile adesso è una particolare perché ci sono delle manifestazioni importanti da giocare quindi ci siamo entusiasmati con tutto quello che abbiamo creato l'anno scorso però non ci serve dobbiamo ripartire da zero lavorare come abbiamo fatto l'anno scorso lavorare con i piedi per terra perché sarà una stagione lunghissima con tre punti già in tasca i rossazzurri affronteranno oggi pomeriggio i norvegesi dell'Utleria Idreslag per consolidare la propria leadership si qualificherà al main round di Champions League soltanto la prima classificata di ogni girone un prestigioso appuntamento a cui la meta non vuole assolutamente mancare e dando uno sguardo alle agenzie non ci sono notizie o aggiornamenti rilevanti dell'ultimo ora dunque si conclude qui la prima edizione del nostro telegiornale un nuovo appuntamento questa sera alle 19.45 grazie per averci ancora una volta scelto e a voi tutti il più cordiale e buon proseguimento di pomeriggio sigla grazie per aver guardato